La cosa più stimolante del mio lavoro è la continua sfida alla rincorsa a sempre migliori condizioni di lavoro per garantire un futuro alle nuove generazioni, perché io sono mamma. La cosa più stimolante del mio lavoro è che ogni giorno c'è un obiettivo preciso da raggiungere per poter essere competitivi sul mercato italiano ed internazionale. La cosa più stimolante del mio lavoro è aver imparato a far parte di una squadra, perché il lavoro di team consente di trasferire conoscenze tra i suoi componenti, rendendo le esperienze più stimolanti.